Sì, vabbè, dai! Ma qua non c'era la cassaforte! Non c'era la cassaforte, non c'era la cassaforte! Non c'era la cassaforte, non c'era la cassaforte! Non c'era la cassaforte, non c'era la cassaforte! Non c'era la cassaforte! Non c'era la cassaforte! Non c'era la cassaforte, non c'era la cassaforte! Ragazzi, questo è un postaccio, veramente! C'è un postaccio, Curves Bergamo, siamo ancora operativi! E' un postaccio, non c'era la cassaforte! E' un filo qua così nuovo! Non ha toccato nessuno! E' il vento! C'è un filo che si muove! Nessuno l'ha toccato! Non c'è nessuna attività elettromagnetica! C'è il Settevaneo qua! Francesco c'è il Settevaneo! Cosa c'è? Qua! Uuh! Posso fare la roba qua? E' per fare le lanci! Ah! Fai le lanci! Capite? No, la cassa! ci due le ho già prese togli cellulare c'è qualcuno qua fate brillare questo aggegio se c'è qualcuno può comunicare con questo aggegio non siamo qua per disturbare vogliamo solo sapere se qua c'è qualche entità ragazzi qua è arrivato un freddo tutto di colpo se sei qua con noi dacci un segno puoi fare suonare questo aggegio come fa bravo così devi fare ai fallo suonare un po di più se sei qua con noi fallo suonare calcolate che i telefoni sono tutti in modalità aerea dai fallo suonare ancora per piacere ci sono rimasti sono in due adesso non aver paura dov'è che sei sei qua vieni ti ho sentito vieni qua sei qua con noi? vieni qua vieni qua sentito sentito cazzo eh sentito cazzo eh sentito sentito sentito